Giovedì 3 luglio 2014 ci troviamo a Roma presso l'acquario romano dove quest'oggi ha avuto luogo un convegno dedicato alla sostenibilità in edilizia dall'edificio al quartiere. Il convegno è stato organizzato da Action Group Editore con l'ordine degli architetti della provincia di Roma e di Roma. Oggi sono intervenuti tantissimi progettisti e architetti proprio per ascoltare i numerosi interventi di esperti e di imprese che hanno presentato case history e nuovi prodotti. Oggi abbiamo la presentazione di una gamma di famiglie delle World Station HP. Noi oggi ovviamente abbiamo portato quelle più facili da presentare e da portare perciò abbiamo una bellissima World Station mobile più una World Station online. Però la famiglia World Station in HP è molto più ampia perché si va da una gamma Z230 fino ad arrivare alle 8 e 20 che però sono le classiche desktop da ufficio dove poi ci si può abbinare qualsiasi tipo di monitor. Poi abbiamo una macchina di nuovissima generazione è una stampante barra multifunzione Inkjet. La nuova generazione sta nel fatto che monta una tecnologia che si chiama Page Wide. Page Wide vuol dire che loro invece di fare la cartuccia che cammina dentro la macchina con le lentezze che ne derivano piuttosto che il rumore piuttosto che anche la vibrazione che dà sul tavolo. La testina è una testina lunga 21 cm. Di conseguenza il foglio passa sotto la testina, la testina spruzza l'inchiostro e esce dall'altra parte. Cosa abbiamo? Abbiamo velocità, un'altissima risoluzione, un abbattimento di costi enorme ma anche a livello ecologico Linkjet sta incominciando a prendere importanza perché non abbiamo emissioni di polveri sottili da parte delle laser e abbiamo un risparmio energetico enorme perché la laser funziona con un forno perciò molta energia e sta sempre accesa sostanzialmente. Questa macchina non ha bisogno cioè ha bisogno di quel poco di energia per partire, punto. Perciò è veramente molto molto valida. E poi un plotter estremamente interessante perché non è un plotter ma è una multifunzione perciò anche in questo caso abbiamo invece che un A4 abbiamo un A0 perciò un vero e proprio plotter ma compreso di scanner. Scanner a colori e a tecnologia LED, due rotoli in linea eccetera eccetera però perciò una cosa anche qui molto interessante e Linkjet sta prendendo veramente molto a più importanza rispetto alle laser. A parte che questa è una sede meravigliosa insomma è conosciuta a Roma è una sede molto molto bella perciò gli architetti secondo me ci vengono sempre con molto piacere però vederli riuniti tutti questi architetti cioè la platea, la sala completamente piena anzi ho visto che hanno hanno preso anche i laterali non è cosa facile perciò veramente un ottimo lavoro.